Identificato l'uomo che domenica ha sparato a cinque agenti uccidendone uno alla periferia di Denver, in Colorado, prima di essere colpito a morte dalla polizia. Si tratta di Matthew Riel. 37 anni. In passato Riel aveva postato su YouTube diversi video in cui inveiva contro la polizia locale. A novembre inoltre era stato segnalato. Con una foto sua e della sua auto. Agli studenti dell'University del Wyoming come un individuo pericoloso.